Salvatore Piredda, promotore della lista Nuoro Sì, che si candida alle elezioni amministrative di Nuoro, una formazione che si colloca nell'alveo del centro-destra, quali gli obiettivi e i programmi? L'obiettivo innanzitutto è quello di parlare alla città, parlare alle persone a prescindere dagli orientamenti. Siamo collocati ovviamente nel centro-destra, ma abbiamo intenzione di lavorare su progetti tangibili, utile alla città, vista la situazione di completo blocco. Abbiamo individuato tre prime azioni importanti che riguardano l'anfiteatro di Nuoro, che è importante dal punto di vista strategico per farci rientrare nel panel del grande intrattenimento nazionale. Il secondo punto è quello relativo al centro intermodale di Via La Marmo, la stazione Arst, e poi abbiamo intenzione di lavorare sul centro storico congestionato, abbiamo bisogno di una progettazione seria che tenda a riaprire una zona infartata, quindi multipiano, quindi accessi sotto il mercato civico, in modo che il centro di Nuoro riprenda a battere.